Pronto, buongiorno, senta parlo, pronto, mi sente? Pronto, mi sente? Pronto, mi senta l'hotel. Allora, senta, devo prendere una stanza, l'hotel? Sì, è l'hotel, l'ho bella. Sì, dovrei prendere una stanza. Una camera come? Una camera singola. Per lei? Sì, me e anche per, diciamo, la mia compagna. Allora, non è singola, è doppia. Sì, è doppia, però le spiego, la mia compagna è una bambola confiabile. La posso portare? Come? Come vuole lei. Ah, ok, quindi io e la mia bambola, e poi anche il cane vuole portare, se è possibile. Le accettate gli animali? No, gli animali no. Ah, ho capito. E invece per quanto riguarda i pesciolini, quindi neanche i pesciolini posso portare? Senta, se è il pesciolino, può portare anche il pesciolino per la camera o cosa deve fare? No, dove l'ho portato nella stanza, là per il 24 di gennaio. Allora, il 24 di gennaio. Di gennaio, esatto. Mi dai il nome, un prezzo? Allora, sì, allora, il mio nome è Armando. Armando? Scafetti. Scafetti? Scafetti, con la F. F di felicità. Scafetti? Sì, scafetti, con due T. Mi dai un telefono? Sì, il telefono, 320. 320. 00. 00. Altri due zeri. 666. E poi? Altri due zeri ancora? No, no, basta. Come? 666. 666? Esattamente. E quando posso... Allora, se... Quando posso andare nella stanza, no? Posso trovare dei... Non lo so, la tavola è già imbandita? Cosa? La tavola imbandita, con un po' di alimenti sul tavolo, insomma. Come un po' di alimenti sul tavolo, in questo senso? Eh, non so, un... Che ne so, un... Non so, un piccolo... Una tavola con degli alimenti sul tavolo, non si può avere, quindi. Sì. Sì. Grazie.